Allora, buonasera a tutti. Cominciamo adesso questa nostra conversazione che durerà più o meno un'oretta con il professor Ilvo Diamanti e con Gianfranco Bettini. Il tema è, all'interno della logica di quelli che sono i contenuti di questo appuntamento del Festival della Politica, è concentrato su un argomento di attualità, ecco, fino a che punto l'insulto, la politica dell'insulto, la pratica dell'insulto fa parte di una degenerazione che in qualche modo può essere anche violenta del quadro e dei comportamenti pubblici in Italia. Ora, che ci sia l'insulto, che sia praticato, che sia diffuso, è inutile neanche stare a... non è tema controverso. Potrebbero essere altri temi controversi, potrebbe essere questo insulto, lo leghiamo, non so, faccio delle immagini, allo stadio, alla televisione, alla rete, alla degenerazione della politica, sono lì, quattro titoli messi giusto per avere, come dire, dei punti di riferimento. Dico che poi questa cosa dell'insulto nella vita pubblica non è poi... cioè, parte anche da lontano, anche se il tratto attuale nella vita italiana è un tratto, voglio dire, che ha dei connotati un po' particolari. Il parte da lontano, ad esempio, c'è un letterato intellettuale cinese nel 1926, ha scritto un libro, è pubblicato da Einaudi anche in Italia, La nobile arte dell'insulto, Liang Shi qui, credo che si chiami così, però sulla pronuncia non do garanzie. E chiaramente lui parlava, è un tema anche alto, se vogliamo, come irridere l'avversario, come in qualche modo farne emergere le contraddizioni, come metterlo in difficoltà. Ma quella era una nobile arte, quindi anche una pratica in qualche modo intellettuale. Qui da noi siamo a livelli decisamente più bassi. E allora dico che su questo tema il professor Diamanti ha scritto parecchie cose. Io mi sono un po' scaricato alcune cose che lui ha scritto, però c'è un articolo in particolare, perché ce n'è anche uno dopo, però c'è un articolo in particolare, l'essico dei tempi feroci. Allora, siamo nel, correggimi se sbaglio Ilvo, siamo no, lo leggo, al 30 marzo 2013. Allora, parla, l'essico dei tempi feroci. Quindi, viviamo tempi feroci, professore? Beh, tanto grazie. Non so se siete tutti qua, avete tantissimi visto il tempo, per farvi insultare, oppure per apprendere qualcosa. Ah, certamente, ma era uno dei segreti del successo di Villaggio. Oppure per apprendere nuovi insulti. Io so che ormai ne ho una collezione lunga, appunto tu lo dici. Ricevuti. Ricevuti, sì. Basta scrivere qualcosa. Il contesto che oggi si ha reso aperta, questa esercitazione, che è la rete, ti permette di fatto di fare collezioni lunghissime. E se volete vi rivolgo quelli che rivolgono a me, però temo che poi non resterei illeso. Non credo che avrei qualche problema anche a lasciare la città, appunto, indenne. Però siamo in tempi feroci. Evidentemente, io ho scritto dei testi negli ultimi anni, dove ho raccolto in parte cose già scritte, in parte inedite, che sono appunti, appunti di vita quotidiana e appunti sulla società. E li ho chiamati i sillabari. E sono i miei sillabari echeggiando figure molto più nobili di me, insomma, evidentemente. Quindi per primo il mio concittadino attuale, Parise, ma anche Faggin, che era mio professore di filosofia, ha scritto sillabari. E allora il primo sillabario era dei tempi tristi. E allora tutti a chiedermi ma sono tristi questi tempi. E io ho spiegato che per me, appunto, la tristezza è un modo, è una chiave, un modo, una lente per guardare la realtà in modo tale da essere meno tristi. Non so cosa significhi davvero, però posso dirvi che a volte la tristezza è un buon amico, è una buona amica. Ti aiuta? Se tu la coltivi in modo, come dire, non estremo, senza fare farti travolgere. Successivamente ho scritto un altro testo, un altro sillabario, ed era il sillabario dei tempi strani. E francamente erano strani perché dal mio punto di vista non prevedibili. Per me quando i tempi sono non prevedibili sono strani, quindi positivi. I tempi strani sono sempre buoni perché se il futuro non è prevedibile vuol dire che tu lo puoi cambiare. Capite? Cioè non è scritto. Il futuro non è mai scritto, però puoi immaginare che lo sia. Ma se non immagini che lo sia, perché uno dei modi di condizionare le persone è di spiegare loro che il loro futuro, il nostro futuro è già scritto. E quindi al massimo ti puoi nascondere, rassegnare, puoi resistere. I tempi strani vuol dire, significano tempi nei quali tutto può cambiare. I tempi feroci a cui faccio riferimento in questo testo, in questa bussola esattamente, hanno a che fare con lo stile, con il codice della comunicazione. A me questo argomento, quello dell'insulto, mi attira abbastanza perché l'insulto c'è sempre stato, l'hai detto, l'arte di insultare ad esempio di Schopenhauer, c'è un testo scritto da un mio sfortunato compagno di liceo, scritto, ricostruito da un filosofo importante, Franco Volpi, morto in modo assolutamente assurdo qualche anno fa. Ebbene, l'arte di insultare di Schopenhauer è una collezione di insulti, che però, capite, sono insulti da Schopenhauer, cioè eleganti comunque. Al massimo arriva a dire che le altre parti del mondo hanno le scimmie, l'Europa e i francesi. Non è molto elegante se si vuole, ma lui ce l'aveva evidentemente con i francesi. Oppure quando di Hegel scriva che è uno sciupatore di carta, di tempo e di cervelli. Vabbè, ma a quel tempo non è che leggessero in molti. E se tu parli mali di Hegel, la prima cosa che molti ti eccepiscono, Hegel chi? Hegel chi? Ecco. L'insulto di cui parla il filosofo cinese, oppure a maggior ragione Schopenhauer, può essere un'arte perché è rivolto a una cerchia ben definita e delimitata e una cifra per comunicare all'interno di cerchie molto delimitate. E oltretutto non rimbalza all'esterno. Invece nei tempi feroci è la normalità. Se non chiami, se non guardi uno e gli dici ma guarda che testa di coccio, ecco. Questo qua dice ma cosa ho fatto? Perché non mi considerano, non mi guardano? Perché non sono valutato? Non sono valutato. E tu poi in questa bussola concludevi. «Così mi arrendo al clima e al linguaggio del tempo e per chiudere rilancio un elegante adagio. Andate tutti a fare in culo, voi e la vostra politica del cazzo». Poi però subito dopo aggiungeva un appunto a margine dicendo che questo linguaggio mi dà fastidio. «Quindi lo usi ma ti dà fastidio». Dovevo scriverlo. Perché? Perché se no uno si arrenderebbe pubblicamente ai tempi feroci. E peraltro io onestamente, ve lo dico anche chiaramente, l'unico nei confronti dei quali utilizzo l'arte non dell'elloquio ma del turpiloquio, sono me stesso. Io mi tratto male quando io me ne dico di tutti i colori. È anche un effetto direi terapeutico notevole oggi. Però capite? Nel momento in cui me ne dico di tutti i colori devo stare attento a non avere, che non mi sia acceso il cellulare, l'iPhone. Cioè io, ancora adesso ricordo, ho l'abitudine di camminare telefonando. Ci sono storiche, ne parla nel suo libro il mio amico anch'esso. Io sono qua a rammentare, comincio davvero a pensare a quanto la nostra generazione si è invecchiata, noi, tutti e tre. Perché ricordo amici che non ci sono più. Cioè uno dei miei più cari amici si chiamava Edmondo Berselli. Qualcuno forse lo conosce. Eravamo veramente… E con lui, guarda, ce ne dicevamo di tutti i colori. Ma ce ne raccontavamo di tutti i colori. Ciascuno col proprio cane. Col proprio cane. Lui con la sua Liu, con la sua Labrador e io con il mio snauzzerino. Andavamo in giro. E là si raccontava, si parlava. E succede che lo faccia ancora adesso, solo che a differenza di allora adesso ho un touch. Ho uno smartphone. Io con lo smartphone non sono in grado di fare cose che voi umani non avete idea. Chiamo chiunque senza saperlo. Partono telefonate. Ti ho appena chiamato, sì. Ed è partito inavvertitamente. Di che torni dopo. E per quello ci vuole meglio averlo coperto. Esattamente. Allora, tempo fa, ma neanche tanto tempo fa, a un certo punto sento rivibrare, mi accorgo del mio cellulare, e ero fuori col mio cane a camminare, immaginando come sempre che nessuno mi conosca intorno a casa. Poi magari un giorno se cammino senza cane, trovo quello che mi guarda e mi dice ma ora dove sei il cane ancora? Andiamo via. E dopo un po' sento questo cellulare che vibra, ascolto, ed è una mia amica che ha detto basta, basta, basta. Se mezza ora che te sento parlare col tuo cane. Ecco, va bene. Io il mio cane non lo insulto, insulto solo me stesso. Allora, fatta questa introduzione con Gianfranco Bettin, entriamo dentro il discorso che non sarà mai del tutto serio stasera, nel senso che è un tratto, se non altro, di ironia nell'affrontarlo, lo manteniamo, penso che siamo d'accordo. Però ecco, io devo fare anche un po' il provocatore, ecco. C'è un tratto di degenerazione della vita pubblica evidente, non recentissimo, Ilvo, perché, quando è che Berlusconi disse, gli italiani non devono essere così coglioni da votare per un partito di sinistra? Sì, sì, sì. Era il 2006? Era il 2006, era marzo 2006, prima... Sì, c'ero anch'io, sì, quindi c'ero anch'io, alla prima del voto, insomma. Sono passati otto anni, voglio dire. No, ma la tecnica, cioè, letteralmente ha detto, non ci saranno certamente così tanti coglioni da votare, da permettere al leader della sinistra di andare al governo. Quindi, voglio dire, siamo nel 2014, poi ci sono stati i vaffanculo dei, poi anche degli insospettabili sono entrati in questo gioco, anche il ministro Mauro, che nessuno mai, all'epoca ministro, si sarebbe immaginato che usasse questo linguaggio. Allora, cominciamo a entrare, perché qui il festival dice, violenza, no? Politica è violenza. L'insulto è violenza oppure qualcos'altro? Provocazione, come dire, degenerazione, però non violenza. Io non sono il soggetto più adatto a valutare la cosa, perché sia per quanto riguarda la violenza che per quanto riguarda gli insulti. Perché io sono nato e cresciuto, mi sono formato in un posto in cui violenza e insulto sono cose quotidiane. Insomma, qualche mese fa avevo 30-40 buzzurri che contestavano una cosa che stavo facendo in Comune, la creazione di un parco, e potete immaginarvi la fauna che contesta l'istituzione di un parco. E a questo io ho detto, guardate, non attacca, perché il più cattivo di voi è molto più buono del più buono delle persone con cui io sono cresciuto. E questo vale per l'uso dell'insulto e l'uso della violenza. E quindi non mi fa né caldo né freddo né l'insulto né la violenza, perché sono abituato a robe molto peggiori di quelle che questi umani comuni possono anche solo immaginare. Ma vedo la rilevanza pubblica di questa cosa e per me c'è una differenza. Mentre l'invettiva e anche l'insulto sono perfino una nobile arte, nel teatro e anche nel discorso pubblico, storicamente, dalla Grecia a oggi e forse anche prima a oggi, la vera differenza per me sta nel recepimento sul piano istituzionale di qualcosa di insultante e denigratorio, non per un avversario politico, ma per una categoria. L'insulto di Berlusconi agli elettori di sinistra un po' si avvicina, però secondo me è abbastanza innocente, è fastidioso, è da cialtroni, ma è ancora dentro una categoria tollerabile. Per me la differenza è quando un sindaco dice degli immigrati una cosa come quella per cui giustamente sindaci come Gentilini o Tosi sono stati condannati per istigazione al razzismo. Questa è la cosa che fa la differenza per me. Ancor più di quando i Tosi o Gentilini non da sindaci, pur odiosamente l'avevano detta, ma quando questa cosa diventa linguaggio dell'istituzione, lì scatta la cosa intollerabile. E lì è giusto per me che uno Stato faccia la differenza tra l'insulto, tra avversari politici o anche tra gente che si sta sulle scatole. Ripeto, io sono nato in un quartiere in cui ti saluti dicendo, oh fio de varre mengotita morti, e se non ti dicono questo, o non ti dicevano questo, sembrava qua, ne sentivi la mancanza, ecco, no? Ti sembrava di essere spaesato, che fosse, la globalizzazione fosse arrivata fino là, ma fosse pure la globalizzazione delle buone maniere. Devo annotarmelo, poi un'altra serie di cose. Ma la differenza, ecco, è quando questa cosa diventa il linguaggio delle istituzioni. Lì cambia tutto. Ma il discorso che hai fatto per i sindaci vale anche per i parlamentari? Vale anche per i parlamentari, per me. Però per i sindaci o per i presidenti di regione o per i ministri? Vale di più perché in quelle parole, quelle parole sono pronunciate da qualcuno che decide della vita pubblica, della vita di tutti. E dovrebbe dare l'esempio, dovrebbe dare un'indicazione, che non è un'indicazione politica, è qualcosa di più. Oppure è un'indicazione politica nel senso della politica che agisce, che trasforma, che fonda non solo il linguaggio ma anche una relazione. Questa è la differenza radicale tra l'una e l'altra cosa. È la differenza tra il fatto che io sono totalmente garantista con uno che mi manda a fanculo, con rispetto parlando e citando il professor Diamanti di prima. Ma, come dice il professor Diamanti, ma non sono per niente garantista col me stesso assessore, sindaco, deputato o quello che posso o qualcuno può essere che usa lo stesso linguaggio, non verso il suo rivale politico o verso uno che lo ha a sua volta insultato, ma verso una categoria. E questa cosa è la vera differenza intollerabile. Poi gli insulti restano in quella sfera che ha un suo tratto di novità. Città, citavamo Paolo Villaggio prima, ma citiamo Peter Hand che insulti al pubblico, non ha esordito così. Allora ti faccio una domanda, ma leggevo un saggio, una cosa che è stata scritta sulla Treccani a proposito di questo argomento e l'autrice di questo pezzo iniziava dicendo insulto, dunque sono. Cioè alcune persone, anzi molti protagonisti della nostra vita pubblica insultano perché in realtà non hanno nient'altro da dire. È questo che si percepisce. Sì, questo è una variante della sparo grossa così esistono. Oggi quel saltroncello, quel fighetto liceale che non ha neanche finito gli studi del centro di Milano, che si spaccia per un bullo, che è Matteo Saldini, ha detto andremo a Roma con i bastoni, se Merenzi mette una tassa. Tutti i siti dei giornali la sparano. Mezz'ora dopo, siccome è un fighetto sovrappeso liceale della Milano bene che si spaccia per un duro, ha detto no, ha parlato di bastoni metaforici. Quindi mi becco la visibilità ma poi per paura di conseguenze vere, mi paro il culo come direbbe lui, dicendo che era un bastoni metaforici. Con questa storia, con i 300.000 armati della Val Brembana, di Bossi e così via, ci guadagna visibilità. Adesso quest'arma è un po' spuntata appunto, anche se è con questo il linguaggio, ne parlavamo anche prima, che Salvini posizionando, che è un abile politico al netto delle cose che ho detto prima, ha posizionato la Lega su un versante di destra pura, le penista, eccetera, e fa la voce grossa su quel versante là e gli sta portando fortuna, riempiendo un buco di destra a destra che in Italia non sono riusciti a colmare formazioni tipo Forza Nuova, quelle che volevano un po' scimiotare Alba Dorata ma non ce l'hanno fatta. Lui ce la sta facendo su quel versante lì. L'insulto è una variante di sparate grosse o grossolane di questo tipo, in politica ma anche nella realtà della vita quotidiana, nella microfisica delle relazioni. Guardate tutti quei leoni da tastiera che col mouse da casetta a fianco del lettino col computerino mandano insulti a tutto il mondo. Questa gente, io ogni tanto ne ho incontrato qualcuno, no? E basta fargli bu, questi qua diventano dei mouse, dei topolini, non dei leoni da mouse. L'uso della tecnologia applicata a queste pulsioni trasforma appunto qualcuno in un insultatore o un denigratore o un insinuatore, uno spettegolatore e così via, no? Cioè estende la tecnica e l'arte dell'insulto e la volgarizza ulteriormente e ne fa un nuovo protagonista, no? La democrazia ibrida di cui tu hai scritto, no? Brillantissimamente in uno dei tuoi, forse l'ultimo testo uscito, no? È fatta anche di questo tipo di cittadinanza che si esprime in questo modo e che è anche un nuovo soggetto politico a cui forze politiche o pezzi di forze politiche aspirano a dare rappresentanza. Però c'è una cosa che va detta perché altrimenti non è per storicizzare ma per fare riferimento a dei cambiamenti, cioè a dei, come dire, queste parole, i linguaggi sono, vanno contestualizzati e storicizzati, le stesse cose in tempi diversi hanno un peso e un impatto diverso. Cioè l'insulto diventa rilevante a partire dagli anni 90 in poi a livello pubblico. Cioè l'insulto detto a casa nostra, l'insulto fatto tra amici, l'insulto fatto con il cane o tra noi, è una cosa, anche al bar, è una cosa. Anche l'insulto politico, cioè io ho visto, ho chiesto a mio figlio di documentarmi sugli insulti, i miei figli mi hanno documentato in due modi, uno che studia questi fenomeni, mi ha passato il libro di Andreotti, onorevole stia zitto quello, e poi uno di Lucio D'Alessandro che era uno di portavoce di Berlusconi, Berlusconi ti odio. E lì avete, ma se voi vi prendete quello di Andreotti, oddio, sono all'acqua di rose se vogliamo, non da tempi feroci, però la collezione di insulti all'interno del Parlamento ci sono e come, no? Poi Paietta che si scaglia esattamente contro i banchi della loro maggioranza, ce n'è insomma, ce n'è di lunga data, però qual è la differenza? La differenza è che quelli sono interni a una cerchia definita e delimitata, cioè al bar, ma anche in Parlamento, io parlo con i miei pari, è una forma di comunicazione diretta contestualizzata, noi sappiamo che il contesto è fondamentale per il linguaggio, la stessa parola detta in due contesti diversi ha significati diversi. Qual è la differenza tra il passaggio con gli anni 90? Cioè voi provate un po' a pensare al successo della Lega. Io mi ricordo una ricerca fatta a fine anni 80 ancora, anzi non è il 90, le regionali del 90, dove c'era una relazione, mostravano che non c'è più relazione tra la presenza di un determinato attore politico e i media, cioè facevi l'analisi di quanto fosse presente in televisione o sui giornali un determinato soggetto politico e un tempo potevi vedere che la relazione era diretta. Invece no, la Lega non esisteva, e non esisteva soprattutto negli anni 80 e negli anni 90, eppure aveva successo. Spiegazione, aveva successo perché non c'era, perché in tempi di delegittimazione che poi è proseguita, ma del sistema politico, non esserci era un vantaggio. Secondo elemento, la Lega quando va in televisione, cosa fa? Usa il linguaggio comune, quello che noi usiamo al bar o quotidianamente, e lo riversa però su uno spazio pubblico. E questo ha successo, ma ve lo ricordate? Oggi c'era Gad Lerner con Renzo Guolo. Gad fa quell'operazione lì all'inizio degli anni 90, lui l'ha spiegata, lui va nella tana della Lega. Ecco, lui lavoravano insieme, loro due sono partiti da una premessa. Qual è questa premessa? Ma nascondere la Lega agli italiani. E beh, è quello che ha successo per quello, perché mostrate agli italiani la Lega, provate a far sentire loro cosa dicono e come sono e vedrete, questa l'ha esplicitata, sono andati in televisione, sono andati a fare nella tana della Lega un successo clamoroso della Lega e anche della televisione, cioè lanciare insulti e parlare esattamente in modo che oggi chiameremo volgarotto, è stata fonte di grande successo di critica, di pubblico e di voto. Questa è la differenza. Sì, il problema però io lo vedo complicato, nel senso che da una parte c'è nel discorso che tu fai rispetto ai linguaggi paludati da Prima Repubblica o da intellettuali, discorsi di cui non si capisce niente, complicati, incomprensibili, il linguaggio diretto, parlare la lingua del popolo. E questa è una questione. Però l'altra questione riguardante un po' il nostro tempo, la comunicazione, come dicevi tu prima, è il fatto di farsi notare facendo delle sparate, facendo delle provocazioni. Oggi si usa tantissimo il termine crossmediale, che poi che cosa vuol dire? Vuol dire che tu fai una sparata in televisione, poi te la riprendono i giornali, te la riprendono i siti, tutti ne parlano, tutti ne parlano e in qualche modo quel giorno tu occupi la scena e così prendi voti. La puoi occupare in un modo in un altro, però è un'arma politica. Il problema è se, invece che essere espressione di una cultura popolare, diventa un trucchetto per nascondere completamente un'assenza di idee, un'assenza di altri contenuti. Questo riflette in modo diverso quello che sosteneva Schopenhauer e non mi convince. quando ci si accorge che l'avversario è superiore e si finirà per avere torto, si diventi offensivi, oltreggiosi, grossolani. Cioè si passi all'oggetto della contesa, dato che lì si ha partita persa, si passi dall'oggetto della contesa al contendente e si attacchi in qualche modo la sua persona. Cioè di fatto cambi bersaglio. Cioè visto che tu non hai argomenti o hai argomenti assolutamente poveri, allora tanto vale attaccare direttamente la persona. Io dico una cosa diversa che ha a che fare con la professione che in modo diverso facciamo tutti e tre. Cioè la verità è che nel momento in cui la rissa va in televisione, questa è la cosa che scopre inavvertitamente, cioè l'eterogenesi dei fini, no? Gad quando manda in onda, quando va nella tana della Lega, è che lui esattamente, illuministicamente dice, la gente si ritrarrà inorridita di fronte a queste persone che parlano in quella maniera là e annunciano e pronunciano quelle idee. Ripeto, un successo clamoroso. E allora cosa succede? Dal 90 in poi noi ci accorgiamo che l'insulto in sé non è un modo di difendersi se non hai altri argomenti, ma diventa in sé un linguaggio di successo ed è un linguaggio televisivo o di una comunicazione di un certo genere. Cioè esiste una comunicazione di cui l'insulto come l'aggressione, come la rissa, divengono di fatto elementi che fanno audience, capite? Che fanno successo. Cioè magari voi direte qui, e io vi credo perché siete tutti persone serissime, che se vedete una rissa in tv e gente che si insulta, cambiate canale. Però gli altri che sono fuori di qua non fanno come voi. Per cui alla fine tu provochi la rissa e se vuoi insulti, ma non perché non hai argomenti, ma perché ti rinvitano la volta successiva, perché tu fai ascolto. Ma era quello che volevo dire io, forse, in maniera, come dire, questa vita pubblica che è tutta un teatro televisivo o mediatico. Gianfranco, secondo te il limite rispetto al linguaggio un po' degradato e la violenza e il codice penale? No, il limite sono le conseguenze che il linguaggio provoca. Da questo punto di vista io penso che siamo andati oltre le cose di cui stavamo parlando adesso. E l'oltre è ciò che mette in comunicazione questo tipo di linguaggio, ciò che fa diffondere questo tipo di linguaggio e lo trasforma in un modo di guardare le cose e le persone. Perché mentre, finché resta nell'arena, in una certa arena, che sia quella politica o altre arene, è lì, c'ha un suo codice. Poi può creare problemi di trasferimento secco da un'arena all'altra, per esempio nel linguaggio di Beppe Grillo, questo è abbastanza evidente, il suo confondere un po' il ruolo di attore, di comico, come se Dario Faux, quello che dice nei suoi monologhi, quelli che precedono i testi più strutturati suoi, o benigni, diventasse immediatamente il suo modo di far politica se decidesse di far politica. Però lì la spieghi così, Grillo è così, è difficile dire che all'età che ha possa cambiare, è quello, quindi non è quello per me il problema. È quando, attraverso anche gli strumenti tecnologici, di cui si parlava prima, un certo modo di degradare l'altro, o gli altri, o certi altri, e di degradare il confronto e le relazioni, impregna di sé diffusamente un paese, una comunità. Tu vedi un degrado collettivo, pubblico. Legato al fatto che un po' l'esempio viene dall'alto, l'alto è ciò che si vede, no? Non importa che uno sia in questo caso il sindaco o il premier, l'alto rispetto alla comunicazione è ciò che assume rilevanza, cioè ciò che si sente o si vede in televisione come attraverso altri media o attraverso l'attraversamento dei diversi media, no? Quello dà l'esempio. Se poi ha successo, tanto più, no? Siccome nulla ha successo, come è successo, tanto più. Quindi se un modo di insultare è tipico del linguaggio politico, anche con eleganza a volte, no? Adesso ci ha colpito il fassinachino, che poi tutti riprendono diamanti chi reale, chi betti, no? Eccetera. Anche da gente che... ma è quello che... mi ricordo un celebre episodio di Churchill, no? Churchill, sapete, vince la guerra, poi gli inglesi lo mandano a casa, no? E fanno vincere Atlee, no? Il laborista. Quando va a insediarsi a Downing Street, Churchill commenta così. Arrivò un'auto, una berlina, vuota davanti Downing Street e non è scese nessuno. Era Atlee, no? Cioè, suprema, raffinata, eleganza, ferocissima, no? Ferocissima. Beh, anche la battuta di D'Alema, devo dire, ieri non era male. quella... avete visto la foto dei dirigenti del PD italiano e socialisti europei con la camicia bianca al festival dell'unità di... alla chiusura del festival dell'unità di domenica scorsa, no? D'Alema commenta così. Ai nostri tempi noi non ci mettevamo mica la camicia rossa. Che all'inizio sembra una battuta innocente, ma poi è perfidissima, perché la camicia rossa se ne mettevano quelli di sinistra, comunisti e socialisti e non la esibivano. Se questi esibiscono la camicia bianca, vuol dire che sono dei democristiani, cioè gli ha dato ferocemente dei democristiani, no? E... voglio dire, non è meno feroce del fassinachì, per restare al contenuto tu non sei nessuno, tu non ti ascolto, no? Te non ti ascolto, cioè, capito? Tu non conti niente, che è il peggio che si può dire in politica a un altro. È peggio che dargli del traditore, dell'infido o dell'incompetente, no? Tu non sei nessuno, fassinachì, Atli era il contenuto di quella macchina vuota. E' sicuramente meno indiretto e meno laterale di quello che Berlusconi dice a Scalfaro, Scalfaro, dicendogli che un serpente golpista è traditore. E' pesante, ma è anche un riconoscimento di valore. Ma per concludere, la differenza per me è questa, il propagarsi di questo linguaggio nelle relazioni ordinarie e quotidiane. I tempi feroci vengono anche da questo avvelenamento diffuso, resistere al quale è molto difficile, perché non sai da dove ti arriva. Meglio dare per scontato che ti arriva da ogni parte, così sei sempre pronto. Io volevo chiederti, Ilvo, questo, ma allora, i politici, chi fa politica negli ultimi tempi, voglio dire, soprattutto per colpa sua, quelli che sono stati coinvolti, non tutti, ma sono stati coinvolti in parecchi, è nel mirino dell'opinione pubblica, nel senso che c'è un grande distacco fra la gente e la politica. Usare questo linguaggio, perché noi dobbiamo sempre distinguere, perché uno dice, un conto è, come dire, il linguaggio popolare, il popolo che in qualche modo usa un linguaggio schietto e un conto sono i potenti che ne fanno uso, o comunque chi ha potere. Ecco, non può essere anche un trucco per dire, noi non siamo la casta, ma siamo come voi, il popolo. Sì, sì, assolutamente. Sì, sì, certo, la canottiera, usiamo... Tenete conto che noi, c'è insulto e insulto, l'abbiamo già detto, quindi come avete visto, abbiamo già cominciato a tracciare una tipologia, c'è l'insulto della vita quotidiana, c'è l'insulto pubblico, c'è l'insulto tra amici, c'è l'insulto nei confronti dei nemici. Come dire, una cosa di cui penso parleremo sicuramente è l'insulto in rete, l'insulto twittato, cioè io mi sono fatto raccogliere dai miei... ma tenete conto, non dalla persona anonima, ci sono evidentemente i twittatori autorevoli sono le figure pubbliche, perché in questo caso sono riconoscibili e riconosciute, questa è la differenza che hai rispetto alla rete normalmente, perché capite, l'insulto in rete fatto con un account, con un alias, cioè con un nome falso, è facile, almeno se io vi insulto mi vedete in faccia, se io mi mando in un certo posto e voi mi rimandate due volte in quel post. sotto questo profilo Twitter, se tu hai appunto il tuo account, è esplicito, cioè mi ha fatto vedere i miei figlioli la pagina di Gasparri che è una meraviglia, insomma, è una meraviglia. Confermo. Cioè mi ha spiegato, ho visto dopo la vittoria dell'Italia sull'Inghilterra dove ha definito dove finalmente abbiamo quegli inglesi boriosi e coglioni, al che Menichini, già direttore di Europa, gli ha detto io sono di famiglia inglese e di te pensano che sei un avanzo di Fogna e lui lo ha querelato sempre via Twitter, capisci, e l'altro l'ho già fatto con te e sei come tutti gli inglesi. Cioè qua andiamo a… allora, qual è la questione però? E mi pare che qui lo potremmo usare per dare una svolta. Cioè, come tutti i generi, anche il genere dell'insulto pop, come lo ha chiamato Roberto Reale, cioè l'insulto come metodo di instaurare una complicità tra chi sta di qua e al di là dello schermo, di qua e al di là della cerchia del potere, può produrre anche effetti controintuitivi, cioè contrari all'intenzione. E allora cosa sta avvenendo? Cos'è avvenuto? Io ogni anno faccio, conduco una sorta di osservatorio sul rapporto tra gli italiani e l'informazione politica. Per cui stimo non gli ascolti, perché non è il mio compito, ma la fiducia nei confronti delle reti, dei programmi, dei conduttori, delle trasmissioni. L'anno scorso cos'è successo? Per la prima volta, un anno fa, noi abbiamo assistito a una caduta verticale della considerazione, quindi della fiducia, nei confronti dei principali programmi di informazione e soprattutto di dibattito politico, tutti. Allora, tanto è vero che lì sì sono arrivate le telefonate di quelli che dicevano un anno fa, ma guarda, guarda che tu mi hai messo tre punti, quattro, cinque, il mio campione di perdita di considerazione, ma io ho aumentato i miei ascolti e io tentavo di costruire questo tipo di percorso più o meno logico. Guarda, siamo in tempi in cui il rapporto tra gli italiani e la politica ha raggiunto livelli inenarrabili. La fiducia dei partiti ormai non è più rilevabile con i sondaggi, perché nei sondaggi tu hai un errore statistico del 3%, quindi nei confronti dei partiti tu non puoi sapere se ormai il grado di fiducia si è espresso da qualcuno, perché ho il 3%, quindi potrebbe essere anche nessuno, perché per sbaglio hai beccato Gasparri oppure Orenzi e ti dicono sì ho fiducia, perché ho fiducia in me stesso, ma gli altri ti dicono di no. Ma la cosa che mi preoccupa di più è la fiducia nelle istituzioni. Io ne ho uno fatto questa settimana, cioè a me preoccupa, io ho dati sul Parlamento, perché l'istituzione rappresentativa della democrazia è sotto 10%, cioè è una situazione paragolpista dal mio punto di vista, quando tu hai un grado di fiducia nelle istituzioni democratiche così azzerato. Però, allora, in una situazione di questo genere, alla fine tu hai anche un'ulteriore tendenza, lo dicevi, la disintermediazione, l'uso dell'insulto esattamente come un metodo per creare complicità, saltare le mediazioni e dire io sono come voi, oddio, non è detto, magari lo si potrebbe fare in altri modi. Però la questione è questa, io spiegavo appunto a questi conduttori di trasmissione, guardate che il meccanismo è perverso, visto che c'è sfiducia nella politica e in chi fa politica, loro guardano la vostra trasmissione proprio perché è l'arena nella quale, è l'agonia nella quale tu puoi insultare i politici. Mi ricordo un spettacolo di un tempo in cui, anni fa, Berlusconi si oppose alla presenza di Benigni a Sanremo, perché è un comunista, perché avrebbe fatto i suoi soliti monologhi contro. E allora, e poi c'è la ripresa di Berlusconi con i suoi amici che davanti alla televisione, e quando arriva lui gli gettano, Ferrara, era Ferrara, scusate, Ferrara, gli gettano, gli lanciano le uova marce e altro. Ecco, il meccanismo è quello, io guardo le trasmissioni politiche perché così gli sputano, cioè ho il problema poi di pulire lo schermo, però ogni volta che mi capita qualcuno, sciù, sciù, via. Alla fine però cosa succede? Succede che il meccanismo si ritorce su di te. Perché? Perché tu che gestisci quelle trasmissioni non diventi diverso da loro, diventi come loro. Per cui vieni, come dire, investito da un'onda di delegittimazione pari, in questo caso, a cui, cioè, chi guida l'arena e l'arena stessa viene delegittimata. Anche perché in un'epoca come la nostra, appunto, mediatica, così, chiunque studi questi fenomeni sa che dopo un po' alcune cose si consumano e quindi si consuma anche l'attrazione che queste risse, che questo modo anche di potersi spogare sputando sul televisore provoca. Non a caso le stesse trasmissioni, non dico, l'ultimo anno qua c'è un calo abbastanza pesante, sia delle reti, sia delle... Avevi anticipato con la riflessione sul gradimento, sul giudizio, anticipato poi i comportamenti. Alla fine finisci la saliva, insomma, quello è il problema. Allora puoi chiamare chi sputti per quanto tu vuoi. E questo è, stiamo finendo la saliva, bisogna capire, bisogna capire cosa succede. No, io volevo raccontare un piccolo aneddoto, ma velocissimo, perché la cosa poi, una delle cose che ha fatto più divertire di Gasparri, a proposito, sempre al tempo dei mondiali, è che lo avevano contestato. C'è una rivista che si chiama Wired, connessi, collegati, questa è meravigliosa, che esce anche in Italia. E c'è un sito, e sono Wired Italia. Questi di Wired avevano contestato quello che aveva detto, quello che aveva scritto Gasparri. Gasparri non capisce, non sa che cos'è Wired Italia, e risponde subito, e dice, non so chi tu sia, per viltà, come tanti, ti cieli dietro l'annominato, serve nome e cognome per indicare annettezza urbana. Lui aveva capito che Wired Italia era un alias, e quindi lui dice, dimmi il tuo nome, dimmi chi sei. Così ti denuncia, no? Anche a te, ecco, il quel relato. Ecco, quindi, e questo è stato un aneddoto meraviglioso che poi ha fatto il giro. Senti, appunto, andando verso, come dire, un possibile esito, abbiamo appunto citato la rete, poi torneremo, parleremo anche di frontiere, anche perché alcuni fenomeni continueranno a esserci. Ma non fra topo tempo, perché sennò fuggono già adesso. No, va bene, finché noi, credo che abbiamo ancora un quarto d'ora, quindi ce lo amministriamo al meglio. Una delle possibili cose potrebbe essere questa, che, vabbè, condivido totalmente quello che hai detto prima sul degrado della vita pubblica, che è una cosa che ci degrada a tutti. Però, uno ti potrebbe anche fare l'obiezione, i 300.000 della Val Brembana potevano essere anche un modo per esorcizzare il problema, in fin dei conti di fucili non se ne sono visti. In Italia siamo un paese di gente che abbaia, ma alla fine non succede niente. Come la vedi questa possibile obiezione? No, è vero che a volte il linguaggio sublima e quindi brucia una cosa che, non detta, potrebbe produrre effetti diversi. In realtà, all'epoca di profondo nord di Milano Italia, con Gad Lerner, ragionavamo così. Non è tanto mostriamo quanto sono brutti questi o quelli e quindi li azzeriamo. Mostriamo un paese magmatico, poco raccontato, andiamo a frugare nel profondo, in quel caso del nord, e lo mostriamo così anche chi è così arrabbiato, anche perché non riesce a farsi ascoltare, non riesce a parlare, non riesce a vedersi, può specchiarsi, valutarsi e far sentire la propria voce. Era un discorso un po' più articolato, c'era anche quella componente là. Per cui è vero che a volte evocare una cosa può servire paradossalmente a spegnerla, no? Però è un gioco molto rischioso, perché il linguaggio, non è vero che le parole non hanno mai ucciso nessuno, no? È vero che hanno innescato fenomeni che sfuggono al controllo, ma non lo dico per mettere degli argini, ma per evocare il complesso delle possibilità inscritte nell'uso del linguaggio. E quindi non... Di volta in volta va giudicato, di volta in volta un comportamento risponde a una certa situazione. Quello di sputare sullo schermo quando c'è Benigni, che poi ti risponde e ti frega, perché è la volta in cui fece l'esse il canto della Madonna, no? Da Dante, dal Paradiso, e quindi lasciò quelli che avevano paventato chissà quali discorsi molto spiazzati, no? Ma quello sputare lì è un conto. Ieri sera, proprio ieri sera, commentando a margine il racconto di Quirico, l'inviato della stampa sugli orrori, insomma delle situazioni che ha raccontato, di cui è stato anche ostaggio per un mese e mezzo, eccetera, no? Con Maurizio Dianese raccontavamo un episodio che ci è successo a noi, durante la rivoluzione a Bucharest, no? Durante l'insurrezione di Bucharest, eravamo lì per raccontarla, poi io ho scritto per la nuova, eccetera, e lui per il gazzettino, facciamo riesumare una telescrivente gigantesca degli anni 40, 50, no? Una cosa molto bella, ma ci capitò, a un certo punto eravamo nella camera d'albergo ed entrò una ragazza che doveva metterla a posto, insomma, malgrado la situazione di rivoluzione, comunque questa lavorava, e a un certo punto c'era la tv accesa e improvvisamente hanno trasmesso l'esecuzione di Ceausescu e di Elena, la moglie del dittatore. Questa qui ha mollato di lavorare, ovviamente, si è seduta lì con noi e quando è comparso Ceausescu ha sputato sullo schermo della televisione, noi l'abbiamo guardato, finita la trasmissione lei ha pulito, ha fatto il suo lavoro, ci ha colpito tutte e due le cose, ma capisci che lì quello sputo è, c'è la storia, mentre nello sputo di altri c'è il pettegolezzo, la cronaca, c'è lo scherno, no? Sono due cose diverse. Quindi la situazione spiega anche il gesto, no? Spiega di che cosa parla davvero. Per me certi insulti di oggi parlano di un degrado generalizzato, no? Che alla fine è detto tutto indifferente al fatto che qualcuno gli insulti se li meriti. La classe politica si merita valanghe di insulti, lo so benissimo. E così la classe dirigente in generale che è più larga della classe politica. Vogliamo parlare dei banchieri? Per dirne. Di Montezemolo. Dei banchieri in generale, no? Cioè, voglio dire, potremmo parlare anche dei giornalisti, potremmo parlare degli intellettuali, della loro viltà, della loro complicità, della loro corrività, no? Cioè, si può fare un ampio elenco di cose, di gente che si merita gli insulti, ma secondo me la deriva che ha assunto il linguaggio pubblico e l'insulto oggi prescinde da questo. Questo lo ha incentivato, ma poi non si riesce a gestirlo. E questo incide sulla qualità anche delle relazioni quotidiane. Allora, di... Posso soltanto... Cioè, Schopenhauer, hai quindi. Tutti i giornalisti... Che ci copre le spalle. Tutti i giornalisti sono, per via del mestiere che fanno, degli allarmisti. E il loro modo di rendersi interessanti. Essi somigliano in ciò a dei botoli, che appena sentono un rumore, si mettono ad abbaiare forte. Bisogna, perciò, badare ai loro squilli d'allarme, solo quel tanto che non ci guasti la digestione. Io ho una domanda per Diamanti. Allora, Ilvo Diamanti, correggimi se sbaglio. Allora, tu vivi un po' a Vicenza, Caldogno, un po' a Rubino, dove insegni, tanto a Rubino, e anche a Parigi. Allora, io... Dove insegna? Dove vai in vacanza? E allora, voglio dire, era una delle cose che mi veniva in mente mentre venivo qua, insomma. Visto che Ilvo vive, non conosce, vive la Francia, mi è venuto così questo, la domanda banale, e chiedergli se in Francia c'è lo stesso degrado della vita pubblica che c'è da noi, e del discorso che abbiamo fatto fin qua. E questa è la domanda più banale, lui mi darà la risposta? Sì, no, non lo so. Non lo so io, perché lui lo sa. L'altra questione però è più politica, perché noi abbiamo detto, l'Italia, paese iperdegradato, di demagoghi di ogni tipo, dove vige praticamente la politica appunto della battuta, dell'insulto, però una cosa come la Le Pen alle porte non l'abbiamo. E quindi, voglio dire, c'è una situazione che potrebbe essere diversa in prospettiva e anche più inquietante in Francia, indipendentemente dagli insulti stessi. Non so se ho reso questo pensiero un po' contorto, ma... No, ma guardate, allora, io insegno da... L'anno prossimo sono 20 anni, da 20 anni io insegno a Parigi, a Parigi 2. Faccio il secondo semestre su, da sempre. E faccio il primo semestre a Urbino. Quindi sono sempre in viaggio. Poi passo a Caldogno e porto il cane in giro, lasciando accuratamente acceso l'iPhone in modo tale che tutti sentano i miei dialoghi con... Peraltro i miei figli perfidi l'ultimo cane che mi hanno preso loro l'hanno chiamato Coca. Si chiama Coca. E tira! Coca non sta a tirare. Coca! Dammi a Coca! Io continuo a avere questi... Ma loro so che l'hanno fatto per quello, non è che... Assolutamente per quello. Ed è un cane dolcissimo, è piccina. Piccina appunto, come la diciamo. Mentre l'altro, che era lo Schnauzer, quello sì, era veramente un mostro. Quindi dovevo starci attento io perché aggrediva qualsiasi forma semovente che passasse intorno a me per difendere me o comunque perché era aggressiva. Vabbè. Girando molto, cioè soprattutto andando a Parigi, la cosa di cui mi accorgo maggiormente è che, come dire, allora, precisiamo, la fiducia nelle istituzioni e ormai nella classe politica e nei partiti e nel Presidente della Repubblica in Francia è peggio di quella in Italia, sia chiaro. Oggi l'indice di gradimento di Hollande, il presidente francese, François Hollande, è più basso di lui, che non è neanche bassissimo, però è molto basso, molto basso. È quello che normalmente si dice, ho visto alcuni sondaggi soffresse che fanno regolarmente sul ceto politico, cioè dei politici, si dice quello che si dice in Italia. Mettiamolo in te. Le istituzioni in Francia sono rispettate e soprattutto in Francia attenti più della politica conta la classe dirigente, cioè capite che la differenza tra noi e loro è che se io vi dico siete dei burocrati e voi mi guardate burocrati e tessaretti, cioè qualcosa del genere, cioè per la Francia la burocrazia è una cosa seria, cioè il potere degli uffici, degli uffici pubblici è una cosa seria. Le scuole in cui si formano i burocrati sono le scuole di alti studi, sono normali. Tenete conto che una cosa in Italia si è molto ironizzato sul fatto che quando fece la sua campagna elettorale Hollande 2012 sì, lo slogan era il presidente normale, il presidente normale e tutti lo ponevano a Sarkozy che invece lui sì era uno che se la tirava mettiamola in questi termini, aveva Carlita vicino la sua uno la cosa che però non si capiva in Italia è l'ambiguità normale c'è normalien cioè lui è un normalien è uno che ha studiato comunque nella scuola normale l'école normale superiore mentre mentre l'altro 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 era uno di famiglia ungherese insomma un avventuriero secondo molti quindi opponevano il vero il francese che rispettava e rispecchiava l'archetipo e il prototipo l'idealtipo del politico francese che è anzitutto un uomo delle istituzioni informato all'enarca come dicono per cui in realtà in Francia lo Stato è più forte della società le istituzioni sono più forti della società può crescere come dire può crollare effettivamente il ceto politico ma non crolla lo Stato e non crolla in Francia non c'è noi parliamo della frammentazione eccetera ma vi rendete conto che in Francia i partiti che superano il 20% non ci sono cioè che al primo turno i candidati presidenziali beccano il 22%, 23%, 24% cioè che è ma è meno importante chi sono loro rispetto al ruolo che vanno a occupare per cui oggi è vero c'è la novità della Le Pen però era nell'aria l'avevamo già visto in marzo alle amministrative stavo su e avevano ottenuto molti voti al di là dei loro vaccini tradizionali il Faux National è forte normalmente nel sud della Francia e ai confini soprattutto i confini con la Germania adesso si è allargato perché è sulla base esattamente della ostilità nei confronti dell'Europa della paura che per loro è un fatto nuovo cioè perché in fondo loro sono abituati molto più di noi all'immigrazione ma anche per il fatto che francamente io non ho nessuna simpatia per Marine Le Pen ne per il Fonast ma ci mancherebbe però lei non è suo padre cioè lei magari per tecnica però lei è riuscita a cambiare in una certa misura il volto dell'estrema destra francese per cui io ricordo che ancora in marzo un terzo dei francesi affermava di essere d'accordo con le idee del di Marine Le Pen del Fonast National infine chiariamoci in Francia delle elezioni europee non me ne frega adesso non uso una parolaccia insomma quasi a nessuno vota al 40% o poco più anche da noi votano in poco ma per loro il Parlamento europeo si le ha messo a Strasburgo per fargli un piacere ma sanno anche che il Parlamento europeo non conta una mazza che poi l'Europa è questa strana bestia che elegge un Parlamento ma poi il Consiglio d'Europa è fatto dai governi e sono quelli che nominano il Presidente quindi ai francesi di sta cosa qua non hanno ancora paura a loro non fa paura la Le Pen e tutto sommato non è un caso che faccia più paura a noi che a loro a noi fa più paura fa paura la Le Pen per quello che può significare per l'Europa a me fa paura l'ibrido che si va formando fa più paura a quello non tanto la cosa riconoscibile che sia la Le Pen o che sia qualcos'altro parlo per me insomma avverso alle mie idee non solo a Lega o altri che hanno tutta la loro legittimità ovviamente di esistere a me fa paura l'ibrido l'impasto che si va formando a livello diffuso da quella roba là può venire fuori qualsiasi cosa e tenere l'occhio solo su ciò che si vede è utile se ci riporta a ciò che si muove sotto e se invece restiamo ipnotizzati dall'Alle Pen di turno adesso abbiamo parlato di lei ma potremo qualcuno vede la stessa cosa nel Movimento 5 Stelle io no ma qualcuno vede la stessa pericolosa miscela anche lì insomma e così via ma quel librido che si va formando e che è anche impastato del linguaggio dell'insulto della denigrazione e tutto il resto unilaterale e indistinta quello per me è l'incognita di cui dobbiamo sentire inquietudine ecco allora siamo un po' in conclusione abbiamo fatto dei riferimenti alla rete a internet abbiamo in qualche modo definito le responsabilità dei giornalisti della televisione quindi del sistema comunicativo chiederei prima a Gianfranco e poi a Ilvo se vedete anche come dire un possibile esaurimento ne abbiamo già accennato prima un possibile esaurimento di questa stagione così un po' livida oppure oppure vedi una sua persistenza no penso che sia una componente permanente almeno di lunga durata del sia del linguaggio corrente che del linguaggio politico perché come dicevamo finora serve a farsi vedere serve a veicolare qualcos'altro serve a dire che esisto serve a far dire qualcosa a qualcuno che non sa dire altro che quello e nel sistema comunicativo oggi transmediale magari in una nicchia ma funziona e questo lo rende difficilmente eliminabile può essere secondario per esempio può essere che la gente si stanchi di vedere i talk show dove la gente dove quelli che sono li litigano che gli faccia perdere anche dell'audience oltre che di credibilità però guarda che i miei amici i nostri colleghi i miei amici francesi che a volte vengono da me la cosa che li sconcerta è la nostra televisione quando guardano la nostra televisione per loro è una cosa incredibile immagino immagino certamente ma appunto questo conferma che è una tendenza che dura e che è difficilmente eliminabile ci si può difendere bisogna introdurre anticorpi sviluppare buona televisione buon giornalismo buon linguaggio politico buone occasioni tipo questa in cui si discute sapendo che per quanta gente prima c'era una marea di gente che ascoltava tre signori molto educati molto sia anche sotto l'acqua eccetera un dibattito straordinario che è cominciato dicendo da parte sia di Cacciari che di Ezio Mauro vediamo se è possibile ragionare di politica sottolineando il ragionare di politica però anche nelle occasioni di più grande successo come questa è una di quelle raggiungi sempre una quota ridotta occorre che si inneschi una catena che rende starei per dire fuori moda se già questo non fosse una concessione al fatto che bisogna essere di moda per essere rilevanti ma che che faccia sentire il discorso di quel tipo un discorso perdente bisogna che chi usa quel linguaggio sia perdente questo è difficile però bisogna provarci magari queste occasioni servono sì comunque c'è anche un'eusazione cioè appunto ripeto in un tempo come questo nel quale bisogna che vadano nei talk show delle più fettide tv locali ecco bisogna vederli là e non passare da lì a Ballarò a quello che è perché sono bravi a insultare che succede il contrario ho capito va bene e io stavo appunto ragionando invece sul fatto che appunto viviamo un'epoca nella quale si consumano anche le mode anche gli atteggiamenti anche delle tecniche anche dei modi certo è anche vero che un paese questa fotografia un po' livorosa coincide anche con un paese pieno di problemi e quindi voglio dire magari l'esaurimento di questa stagione coinciderà speriamo in positivo con un anche una possibile ripresa è un possibile uscire da questi vicoli ciechi nei quali ci troviamo tu come la vedi solo una cosa per evitare un equivoco da un secondo questo che dicevo adesso non ha nulla a che fare con l'insulto la rabbia il dolore che si sente nelle parole di chi non ne può più cioè quella cosa che somiglia allo sputo della ragazza cameriera romena di fronte all'esecuzione di Ceusescu cioè io non confondo l'insulto di Salvini o mio o nostro come dire con quello delle persone che non ce la fanno più e che parlano così perché hanno dentro quella cosa là ed è colpa di chi gliel'ha messa dentro non di loro che la esprimono così no vorrei differenziare per evitare l'equivoco era chiaro fin dall'inizio il problema era quello di capire se quel tipo di linguaggio appunto dall'alto verso il basso quindi non espressione del basso impattando in un paese che soffre può trovare più dienza più efficacia che non in un paese che è un pochino più sereno ecco questo era il cuore di un ragionamento possibile non è che tu mi dica stai sereno Ilvo vero qualcuno te lo dice però sì e mi preoccupo sempre ti preoccupi anche di questo perché poi c'è un convitato di pietra in tutto questo che il discorso ce ne sono diversi però noi adesso abbiamo finito non vi preoccupate perché Grillo è entrato e non è entrato però ha organizzato io a Fanculo Day che insomma voglio dire sarebbero anche dei punti di riferimento per una discussione come la nostra e poi c'è anche il battutismo senza insulti di chi magari guida il paese ma è molto bravo nel fare molte battute ecco e anche questa è un'altra delle cose che in qualche modo andrebbe detta però io lascio in qualche modo dopo aver confuso le idee cosa semi impossibile a Ilvo gli lascio la parola no no non è un problema anzi noi come dire ci conosciamo da tempo quindi io avevo i capelli quando li ho conosciuti sembrava Jimi Hendrix o Casaleggio qualcosa del genere potresti potresti pubblicare come razzi una tua fotografia con i capelli dell'epoca e pensa che è successo cioè tu e finire la serata insulti in pratica razzi peraltro sai bene che anche le rime non contano in questo caso e mi limito a quelle per rispetto nei confronti di questo pubblico da razzi guardate ma c'è un po' ragionato anche prima di venire sul modo su come non dico concludere ma ricavare da una discussione come questa anche un qualche ragionamento di prospettiva io mi sentirei anzitutto di fare un'avvertenza cioè la prima avvertenza è che dobbiamo stare attenti dobbiamo fare attenzione a non demonizzare non è un bel termine però vabbè a non demonizzare la cultura e la comunicazione di massa capite? e in media di massa perché è abbastanza evidente che quello che succede tra gli anni 80 e 90 non è che prima non ci fossero i media di massa ma è dagli anni 90 che i media di massa diventano lo spazio della politica prima c'erano le sezioni prima c'erano le piazze prima c'erano le strade lì puoi anche dirtele ai tempi della battaglia delle battaglie politiche insomma si è ammazzato ci sono sappiamo benissimo questo è un territorio quando si parla della violenza politica insomma c'è purtroppo una storia dolorosa anche qui intorno per cui alla fine uno dice se l'insulto e la violenza verbale è un surrogato della violenza diretta meglio la violenza verbale va bene però ci ho detto il salto in politica è nel passaggio è negli anni 90 è quando la politica si sposta dalle piazze dalla società dal territorio alla televisione ai media e poi alla rete ma non possiamo ma capite perché perché lì le logiche della politica parlo con dei professionisti che lo sanno non sono più autonome cioè l'audience diventa un indice del tuo successo politico però allo stesso tempo l'audience è anche un indice di successo mediatico c'è una trasmissione che fa audience beh la rifanno alcune trasmissioni che hanno cambiato adesso conduttori o altro e anche perché hanno perso milioni di spettatori nell'arco di un anno perché l'audience definisce esattamente qual è la battaglia intorno all'audit è perché ogni fascia ha un valore dal punto di vista della pubblicità che è quella con cui davvero ti paghi le trasmissioni se tu fai un indice alto hai un valore alto della tua fascia oraria oppure no per cui il problema te lo faccio in altri termini cioè quanto vale l'insulto la risposta che ha dato Gianfranco è dobbiamo far sì che l'insulto o la volgarità non vengano premiati politicamente ma e anzitutto perché più o meno la stessa cosa mediaticamente questo potrebbe essere dovrebbe essere un buon segnale cioè il buon segnale può essere non tanto non è facilissimo da spiegare ma spero di riuscirci io non voglio essere quello che dice la politica era che bella che era la politica come la pensiamo in molti quelli della mia generazione quando non era in televisione quando era fatta sul territorio io dico non dovrebbe smettere di essere fatta sul territorio e nella società e in televisione anche in televisione la rete è evidente che la rete alimenta guarda Wired mi ha dedicato non pochi articoli di critica quando è legittimo però assolutamente è legittimo proprio perché io connetto la sfiducia la sfiducia all'uso della rete e l'insulto all'uso della rete ma non ne faccio un giudizio di valore io vi dico che nei miei sondaggi il tasso di sfiducia politica cresce in base alla partecipazione in rete così come posso dirvi è abbastanza evidente che in rete diciamo le relazioni feroci sono più facili perché sono più facili perché bene o male cos'è che manca quando non solo nella politica in particolare ma in generale nella comunicazione che avviene attraverso lo schermo e la rete manca quello che c'è stasera voi non avete le persone vicine lo capite cioè il problema è che tu hai partecipazione e a me la rete dà questa possibilità quantomeno a differenza della televisione non ha padroni anche se non tutti i blogger sono uguali e c'è chi ha più autorevolezza e capacità di controllo di altri però nella rete tu sei sempre connesso sei sempre con gli altri e sei sempre da solo e tu ti puoi connettere come avete detto quando sei a letto quando sei a casa qua mentre parli e ti tic e ti tocco ma porca cioè tu non riesci io quando vado ogni tanto in treno a Roma o a Milano ma ce ne fosse qualcuno io assisto a trattative una volta poi passano direttamente ibridamente dal tic ti tocco a parlare io ho assistito a una trattativa per uno studio di uno che è andato avanti per mezz'ora e poi gli scrive e poi gli riparlava alla fine ma lo compro o no perché io vorrei leggere cioè questa è lo vende allora sei in una situazione di eterna connessione di eterna solitudine quindi di eterna questo è il rischio e perenne irresponsabilità perché qual è la differenza lo ripeto dell'insulto fatto in un contesto dove ci sono le persone è che tu rispondi e sei identificabile con il tuo insulto e se mandi a fare in culo uno quello ti rimanda a fare in culo a sua volta e così tutti felici contenti si mandano a fare in culo ma sono lì sono lì capite mentre se mi manda uno che ha un hashtag oppure o si chiama Pippo Pippo Potamo e mi manda a quel posto ma io non so chi sia non lo può cioè se sono gaspari gli dico non ti posso manco querelare per favore rivelati dimmi chi sei e io cosa volete cioè allora la prospettiva è che comunque in una società ibrida ci vogliono sono cittadini ibridi che siano in grado di controllare i diversi linguaggi al tempo di una società ibrida con dei cittadini ibridi maturi allora tu puoi anche avere una prospettiva nella quale tutti si possono sfanculare allo stesso tempo e valutare allo stesso tempo se chi ha bisogno di sfancularti per ottenere l'audience merita la tua fiducia oppure no perché questo è il passaggio dal mio punto di vista decisivo dell'ultima fase che mi crea problema questa è una fase nella quale l'insulto ha avuto grande successo anche perché siamo passati dal tempo della fiducia al tempo della sfiducia tu hai costruito per molto tempo un rapporto tra politica e società fondato sulla fiducia io mi riconosco in qualcuno perché ho fiducia in lui vogliamo all'estremo era la fede l'ideologia condividiamo una stessa fede guardate che questo non è necessariamente un bene però la fiducia io voto uno perché ho fiducia in lui cosa vuol dire che è più bravo di me no magari perché mi fa avere quello che io di cui ho bisogno anche clientelarmente ma ho fiducia in lui noi siamo in una fase in cui si è rovesciato questo meccanismo e oggi sei nel tempo della sfiducia in cui hai gli anti leader e gli anti partiti cioè i partiti anti partiti i vaffa partiti i partiti vaffa oppure i leader rottamatori quelli che noi siamo coloro che fanno fuori tutti gli altri noi contro gli altri in cui ripeto il problema è gestire la sfiducia in tutti gli altri quindi ecco io credo che il futuro a me non dà un problema gli insulti fanno parte della vita quotidiana del linguaggio quotidiano a me dà fastidio se l'insulto diventa A un elemento di spettacolo B un elemento per catturare il consenso attraverso la sfiducia C ho bisogno per questo di immaginare che sia possibile un futuro prossimo venturo nel quale la fiducia torni ad essere un bene di consumo durevole e di valore e in cui magari puoi mandare anche qualcuno a fare in culo ok però allo stesso tempo ti vota non per quello ma perché ha fiducia in te allora in quell'ottica in quella prospettiva è probabile che l'insulto in televisione non basti più per fare ascolto e il leader che ti insulta in televisione come dire divenga un buon motivo per cambiare canale invece che per dire no è come me no non è come me dipende da cosa fa e se ha bisogno di questo per avere il mio consenso cambio canale e cambio partito e cambio leader e io con la fiducia che la parola ibrido non sia un insulto né per voi né per noi ringrazio Ilvo ringrazio Gianfranco e soprattutto voi che ci avete ascoltato fino a 10 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti